Musica Ore di apprezzione a Canicattì per la scomparsa dell'avvocato Giuseppe Lobrutto, di lui non si hanno più notizie da lunedì mattina, continuano le ricerche della polizia. Commemorato questa mattina a Castro Filippo la puntata dei carabinieri Salvatore Bartolotta, il militare venne ucciso nella strage di via Pipitone Federico dove perse la vita il giudice Rocco Chinnici, una messa è stata celebrata in chiesa madre. L'Akragas parla sempre più juventino, nel ritiro della formazione bianca azzurra anche al Miron l'attaccante potrebbe firmare per la società della città dei templi. Sono questi i titoli del nostro telegiornale, immagini, notizie e servizi dopo la pubblicità tra poco. Ben trovati all'appuntamento con l'informazione sulla nostra emittente, in apertura ci occupiamo della scomparsa dell'avvocato Giuseppe Lobrutto, 40 anni di Canicattì, di lui non si hanno più notizie da lunedì mattina, la polizia continua le ricerche su tutto il territorio e sta indagando per capire cosa è avvenuto. Il servizio appare come un vero e proprio giallo la scomparsa di un avvocato civilista, Giuseppe Lobrutto, 40 anni di Canicattì, di lui non si hanno più notizie da lunedì mattina quando dopo aver lasciato la moglie uno dei suoi figli in tenera età si è diretto verso il tribunale di Agrigento dove ha detto che avrebbe dovuto prendere parte ad un processo. L'ultimo contatto con la moglie è stato intorno alle 10 quando i due si sono scambiati alcuni sms, poi il silenzio più assoluto. Il suo telefono cellulare risulta spento, la sua auto, una Peugeot 3008 di colore bianco, scomparsa nel nulla. Ieri mattina i familiari di Giuseppe Lobrutto, dopo averlo atteso in vano per tutta la notte, si sono recati presso gli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì per presentare denuncia. La polizia ha quindi diramato una nota di ricerche su tutto il territorio nazionale e regionale diffondendo una sua foto. Inoltre, con l'aiuto dei vigili del fuoco, ieri mattina sempre la polizia si è recata presso il suo studio legale che si trova in via Regina Margherita per vedere se l'uomo si trovasse all'interno poiché i familiari non avevano le chiavi. Ma di Giuseppe Lobrutto nessuna traccia. E allora gli interrogativi al quale gli inquirenti stanno cercando di dare una soluzione sono due. Che fine ha fatto Giuseppe Lobrutto e soprattutto perché è sparito? In famiglia apparentemente non c'erano problemi. L'unica novità era il trasloco dei genitori nella nuova casa di campagna. La tradiva continuamente, sperperava il denaro, la offendeva, la picchiava, la minacciava. I maltrattamenti alla compagna fisici e psicologici sono andati avanti per quasi 12 anni. E sono accostati l'arresto ad un 59enne originario di Campobello di Licata. L'uomo da tempo residente a Ravenna è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Rossella Materia su richiesta del PM Angelo Scorza che ha coordinato le indagini dei carabinieri. Il 59enne deve rispondere anche di lesioni personali per i calci e pugni sferrate alla compagna con la quale conviveva da 14 anni. Gli ultimi a giugno avevano provocato alla donna lesioni alla mandibola ed ematomi alle gambe. In seguito lei aveva fatto l'ultima denuncia anche se già a maggio si era fatta avanti per lamentare nuovi soprusi subiti dall'arrestato. L'omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone ha volto ancora oggi nel più fitto mistero. Un agguato rapido e feroce nel parcheggio del Palasport di Pordenone che resta inspiegabile. I fatti risalgono al 17 marzo quando l'assassino ha sparato 5 colpi di pistola contro i due giovani. Le caratteristiche dell'arma confermano la freddezza del killer. Il delitto è stato commesso con una pistola semi-automatica. E' forte quindi il sospetto, scrive il Gazzettino, che a uccidere sia stato un killer professionista. Non viene affatto esclusa persino l'ipotesi di una esecuzione di stampo militare attribuibile a una persona addestrata per uccidere. Trifone Ragone non ha avuto tempo di reagire. Il killer ha esplosso 6 colpi in rapida successione. La trasmissione segreti e delitti ha parlato per questo caso di una tecnica militare diffusa tra marins e corpi speciali che insegna a uccidere in pochi secondi e in spazi angusti. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Agrigento hanno scoperto 22 lavoratori in nero in un'azienda di salotti a San Giovanni Gemini. Solo un dipendente è risultato in regola. Sospesa l'attività imprenditoriale, dellevate sanzioni amministrative per oltre 110 mila euro. Nel primo semestre del 2015 sono stati contestati illeciti a più di 40 mila aziende in Italia. Riscontrate irregolarità nel 59% delle imprese espressionate. È contestato l'impiego di oltre 18 mila lavoratori in nero. Questi in sintesi i risultati dell'attività di vigilanza svolta agli ispettori del lavoro delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, scusate, noti dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva. Due autovetture sono andate in fiamme la notte scorsa a Grotte. Il rogo ha interessato due automezzi parcheggiati presso il quartiere Bellavissa. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della locale stazione per accertare le cause che hanno provocato l'incendio, ma non dovrebbe trattarsi di dolo. Si è svolta stamattina presso la chiesa madre di Castro Filippo la commemorazione dell'appuntato dei carabinieri Salvatore Bartolotta, uomo della scorta del magistrato Rocco Chinnici, ucciso nella strage di via Pipitone. Federico, l'intervista. Oggi ricorre il 32esimo anniversario della scomparsa e dell'appuntato Bartolotta della scorta del magistrato Rocco Chinnici. Oggi avete commemorato questa figura? Sì, oggi è il giorno del ricordo di quella tragica fine che ha fatto il magistrato Rocco Chinnici assieme alla sua scorta. Ricordiamo appunto l'appuntato Bartolotta che è un nostro paesano e ci troviamo proprio nella piazza in cui lui passava, non dico giornalmente, il suo tempo perché era impegnato evidentemente in questo servizio davvero faticoso, però che ha voluto fare fino all'ultimo sacrificio. L'appuntato Bartolotta è uno che aveva forti legami con questa nostra cittadina e noi oggi lo ricordiamo, come dire, riflettendo anche su quello che è la legalità, la forza di questi uomini che hanno dato la propria vita proprio per sconviggere la mafia, per sconviggere la criminalità. Quindi è un momento del ricordo, ma è un momento di riflessione su quelle che sono le giuste condotte del vivere civile. Oggi infatti abbiamo voluto porgere questo omaggio floreale alla tomba dell'appuntato Bartolotta, ma nel pomeriggio ci saranno anche altre iniziative. C'è una partita organizzata presso il campo sportivo del nostro comune, tra le forze dell'ordine e gli sportivi di Castrofilippo, e poi in serata ci sarà un film che proprio vuole aiutarci a riflettere su quella che è la gravità che è imperversa la nostra Sicilia ed è appunto il cancro della mafia. O si governa o si va a casa è la sintesi che scaturisce dall'incontro durato poco meno di due ore tra il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, il segretario regionale del PD Fausto Raciti e l'Udc, partiti della coalizione con cui Crocetta ha vinto le elezioni tre anni fa. Le parole di buonsenso sono venute dal premier Matteo Renzi, o si governa o si va a casa, e questo l'abbiamo ribadito al presidente della regione, ha detto il presidente nazionale dell'Udc Gian Piero Dalia, che ha partecipato all'incontro. Ci sono, ha aggiunto, una serie di provvedimenti importanti. La partita fondamentale riguarda la stabilità economica e finanziaria della regione sono positivi i segnali venuti dal governo e dal Parlamento nazionale, quindi dalla maggioranza che sostiene Renzi, inclusi gli amici di Nuovo Centro-Destra. Dalia esclude l'ipotesi di un voto in autunno. La escludo anche tecnicamente, ma la durata della legislatura e del governo, ribadito il leader centrista, dipende da ciò che si farà nei prossimi mesi, dalla riforma delle province ai rapporti finanziari con lo Stato. Intanto, una prima indicazione sul futuro del governo Crocetta verrà dall'Assemblea del Partito Democratico Siciliano, programmata per lunedì prossimo. Davide Faraone ha rifiutato lo scranno di deputato all'Assemblea regionale siciliana, il sottosegretario ha scritto una lettera alla presidenza dell'Ars. Faraone, in quanto primo dei non eletti nella lista del PD, sarebbe dovuto subentrare a Fabrizio Ferrandelli, che si è dimesso da deputato nei giorni scorsi in polemica con il governatore Rosario Crocetta, il secondo dei non eletti e il rigio indagato nello scandalo dell'ente di formazione Ciapi. E si è costituito all'Ars il gruppo parlamentare, il megafono PSE, che sostiene il governatore Rosario Crocetta, del quale fanno parte i deputati Giovanni Di Giacinto, confermato presidente del gruppo Antonio Malafarina, Nino Oddo, Marco Forzese ed il vicepresidente vicario dell'Ars Antonio Venturino, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle, primo a transitare al gruppo misto e di aderire al Partito Socialista. Una decisione salutata con soddisfazione dal governatore Crocetta. La giunta regionale, dopo i confronti con l'assessore alla sanità e la commissione sanità all'Ars, si è approvato le linee guida della sanità siciliana. Con la risoluzione la Sicilia istituisce gli ospedali riuniti, rendendo possibile il salvataggio dei piccoli ospedali a rischio chiusura. Una scelta condivisa dal Ministero della Salute che permette di realizzare economie di scala, evitando la ripetizione dei servizi in ambito territoriale, consentendo di razionalizzare i servizi, garantendo inoltre la qualità dei livelli essenziali di assistenza. Si sbloccano inoltre le piante organiche e si dà via al piano assunzioni. Entro il 30 settembre le aziende dovranno presentare un piano di riordino dei servizi e le nuove piante organiche per poi procedere al reclutamento del personale. Il segretario regionale dell'Udc Sicilia, Gianluca Miciche, è ufficializzato nel corso dell'Ufficio Politico del Partito, che si è tenuto ieri a Palermo nella sede del gruppo centrista all'Ars, il nuovo organigramma della segreteria regionale con diversi incarichi affidati ai giovani. Puntiamo sui trentenni, afferma Miciche, una linea under 40 che vuole riavvicinare questa generazione all'impegno politico in prima persona. Nuovo vice segretario regionale, Matteo Francilia, a capo della segreteria politica regionale ci sarà Adriano Frinchi, segretario amministrativo è stato nominato Paolo Alibrandi, responsabile organizzativo è Antonella Russo, insieme a Massimo Porto, per quanto riguarda i dipartimenti, Laura Marsala si occuperà di famiglia sociale, concetta carbone, programmazione politica e dell'immigrazione, Sonia Migliore, la nuova responsabile antilocale, Salvatore Di Palma, responsabile ambiente, fonti e rinnovabili, Salvatore Lo Giudice, infrastrutture e sviluppo, Salvatore Ingrasciotta, politiche agricole e attività produttive. I cumuli di rifiuti che hanno ormai invaso perfino mezza carreggiata stradale con tutti i rischi che comporta. Siamo a Racalmuto, la gigantesca discarica a cielo aperto di Contrada Pizzo, campagna, meglio conosciuta come Contrada Comete, all'ingresso del paese, arrivando da Canicattì, ormai diventata il simbolo della devastazione ambientale, dell'inerzia di chi dovrebbe tutelare l'ambiente, decoro e la salute pubblica. Le proteste da parte di chi vive nella zona attualmente invasa dai villeggianti sono quotidiane e a dire il vero lo sono dallo scorso Natale, dal comune, contrariamente a quanto avvenuto su piazza Baronea, dove i cumuli di rifiuti sono stati già rimossi due volte, mancano però i riscontri. Per questo motivo che c'è malumore in paese, i cittadini, dopo aver valutato di presentare un esposto in procura, stanno sottoscrivendo una ufficiale richiesta di dimissione del sindaco Emilio Messana. L'amministrazione comunale di Campobello di Licata ha adottato il piano triennale delle opere pubbliche, tra gli interventi, i lavori di adeguamento alla norma di sicurezza degli edifici scolastici Don Bosco, Carnevale, Montessori, Edison, Hemingway, Manzini, Marconi, Trieste, i lavori di realizzazione dell'autoparco comunale, la ristrutturazione della rete idrica del centro storico, i lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica degli edifici scolastici. Continua l'attività di presentazione in provincia di Agrigento del progetto comunitario del Marchio D'Ari, Agrigento, terra di storia, nature ed enogastronomia. Il prossimo seminario si svolgerà il 1 agosto a Favara, con inizio alle 19, nella sala del Castello Chiaramontano. L'evento rientra tra le attività di diffusione e pubblicizzazione organizzate dal Libero Consorzio e dagli altri enti promotori nell'ambito del Marchio D'Aria della provincia di Agrigento. Questi seminari sono rivolti alle imprese e agli enti che operano nel settore turistico ed enogastronomico del territorio agrigentino. Un altro ex juventino dovrebbe indossare la maglia dell'Akragas. Siamo allo sport e calcio. Da ieri il centrocampista argentino Sergio Almiron, 35 anni, svincolato dal Catania con cui ha giocato le ultime quattro stagioni, si allena in ritira a Torre del Grifo agli ordini del suo ex compagno di squadra, Nicola Legrottaglie. La società precisa che il giocatore sudamericano non ha ancora firmato e anzi quasi tutti gli altri giocatori devono ancora perfezionare l'aspetto contrattuale dopo aver superato le visite mediche. Il gruppo di calciatori presenti a Catania, circa una ventina, fa sapere la società, sta effettuando i test medici e solo dopo gli esiti si potrà eventualmente prendere in considerazione il tesseramento. Va ricordato che i giocatori con contratto al momento sono Capuano, Madonia e Mauro Antonio. Nella passata stagione prendono parte al raduno d'Alessandro e Trofo. Nel tardo pomeriggio di ieri la società ha ufficializzato l'ingaggio di Vito Leonetti, Mattia Fiore e Daniele Marino. Quest'ultimo, classe 88, arriva dal Taranto. Leonetti ha giocato nella primavera del Bari e nella scorsa stagione è stato tesserato con il Savoia, mentre Fiore, classe 96, arriva dalla primavera della Lazio. Si alza domani il sipario dell'agrigento Jazz Festival, seconda edizione della manifestazione dedicata al Jazz che per quattro serate verrà ospitata ai piedi del Tempio di Giunone. Il progetto nasce dall'idea di alcuni giovani agrigentini di Mennula, Virdi e Venti che riunisce addetti ai lavori, artisti, appassionati di Jazz e vedrà alternarsi sul parco alcuni tra i nomi più noti della scena jazzistica nazionale e internazionale. Ad aprile il festival sarà Laura Lala Sicilian Quartet in Sidumoru dove la voce di Laura Lala verrà accompagnata da Claudio Giambruna e Sassofoni, sede Mangiaracina al pianoforte, Carmelo Venuto al contrabbasso ed Emanuele Primavera alla batteria. E oggi e domani si svolge a Canicatil Baskers Festival per due giorni. Ci sarà una vetrina del teatro e dell'arte di strada tra l'arco Doncola e il complesso dell'Abbadia. Si esibiranno trampolieri, clown, narratori di storie antiche e giocolieri. L'ingresso è gratuito ed è stata organizzata l'iniziativa da Lucia Cammalleri e Cammilleri e Simone Luglio con il patrocinio del comune di Canicatì. Ci sarà inoltre un mercatino dell'artigianato. Per l'occasione è stato allestito un posteggio che si trova nel cortile della scuola Crispi. Le manifestazioni avranno inizio alle 20.45. Un nuovo parcheggio del tutto gratuito sarà realizzato a San Leone tra il viale Emporium e il viale dei Pini. Sarà il comune di Agrigento a realizzare il progetto che vede coinvolto uno spazio nella cosiddetta area Corsini. Il terreno è stato concesso e incomodato d'uso gratuito dalla famiglia Corsini al comune di Agrigento per tutta l'estate fino al 15 di settembre. Si elimineranno le sterpaglie attualmente presenti e si provvederà a spianare il terreno che verrà poi adeguatamente illuminato e recintato. L'ingresso verrà dal viale dei Pini e l'uscita in viale Emporium. I lavori saranno conclusi nel giro di pochi giorni. Questa era anche l'ultima notizia del nostro telegiornale. Come sempre vi ringrazio per aver eseguito l'informazione della nostra emittente. A tutti voi vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.